il tennis italiano sta vivendo un momento di grazia in campo maschile perfino di grande abbondanza che effettivamente porta l'italia ad essere il paese leader tecnico a livello mondiale tuttavia quando si parla di competizioni a carattere nazionale come la coppa davis le cose possono comunque complicarsi soprattutto se non sono presenti i due migliori tennisti in classifica di in particolare il numero uno del mondo che assieme ad altri due o tre tennisti sul pianeta diciamo può effettivamente essere considerato nella gran parte dei casi una garanzia di vittoria almeno per le sue partite infatti a parte pochissime eccezioni per come stanno le cose attualmente nel tennis con un equilibrio ed un livellamento tecnico verso l'alto di garanzie vere e proprie di successo ce ne sono davvero poche quello che rimane invece è una garanzia di competitività generale diciamo in questo senso la squadra italiana anche senza alcuni dei suoi migliori tennisti ne ha comunque parecchia di questa qualità e questa capacità di essere assolutamente competitivi seppur senza nessuna garanzia la sta mostrando in questi giorni a bologna nelle fasi a gironi che qualifica per le finali invece di malaga che si giocheranno a dicembre ieri pur soffrendo parecchio è arrivata un'altra vittoria questa volta alle spese di un belgio piuttosto sorprendente che ha schierato nella prima partita di giornata come secondo singolarista in termini di classifica alexander blocs che è uno dei ragazzi ancora molto giovani più promettenti del circuito e a battezzarne il debutto in davis è stato ancora una volta a matteo berrettini che dopo joe fonseca si è ritrovato nuovamente ad affrontare un tennista dalla classifica bassa dalla poca esperienza ma dal potenziale dalle dote tecniche di altissimo livello e come con fonseca anzi direi più che con fonseca che peraltro giovedì ha vinto un gran match contro van den zanschul berrettini ha dovuto soffrire le pene di un quasi inferno tennistico per averla meglio di un ragazzetto che ha dimostrato di non avere paura e colpi eccezionali blocs è piuttosto alto ancora abbastanza esile ma con uno scheletro ben proporzionato serve bene a un rovescio estremamente solito e di grande sensibilità ma soprattutto un dritto che genera una palla potente complessa veloce ma anche piena di rotazione e poi si muove già discretamente riuscendo anche a contenere diciamo quando necessario a rispetto appunto di una stazza imponente tutto questo bloc se l'ha messo in campo da subito senza paura al contrario di berrettini che per tutta la partita ha fatto fatica in risposta ma che in particolare all'inizio ha servito male subendo un break quasi in apertura che ha segnato i destini nel primo set berrettini ha continuato a soffrire molto in risposta venendo spesso travolto dal dritto di bloc ma da metà del primo set e poi sempre più nel secondo set e nel terzo ha aggiustato il rendimento al servizio riuscendo così a trasformare la partita da difficilissima a complessa diciamo mettendosi nelle condizioni di sfruttare gli eventuali passaggi a voto di bloc. Passaggi a voto che in realtà sono stati pochissimi appena un paio ma decisivi perché berrettini pur giocando male possiede la notevole capacità di tenere spesso il meglio per i passaggi in cui le cose contano di più. Vittoria preziosa quindi quella di berrettini ancora di più valutando la ex post diciamo a cose fatte dato che poco dopo Flavio Cobolli non è riuscito a gestire al meglio il proprio debutto in una competizione sempre complicata da gestire sotto l'aspetto emozionale. A dire il vero Cobolli era partito in quarta con i primi game della sua partita contro Zizu Berg giocati alla grande spingendo e mostrando una carica decisamente benaugurante. Ma avanti 3 a 1 nel primo set le cose sono cominciate rapidamente a cambiare con Cobolli in difficoltà con la percentuale di prima in campo e di conseguenza in uscita dal servizio sulla seconda aggredito da un Berks invece in palla dinamico sempre in spinta ispirato al servizio che ha sempre preso in mano lo scambio mettendo sempre più pressione su un Cobolli al contrario spesso fuori giri soprattutto con il dritto. Insomma dopo quel buon inizio e fino al 6-5 nel secondo set con Berks a servire addirittura per il match Cobolli è sempre stato con la testa sott'acqua salvandosi più volte soprattutto nel secondo da situazioni semi disperate e subendo il break che pareva decisivo appunto sul 5 pari. Ma Berks è anche uno di quei tennisti che da sempre ti chiedi come possa essere solo numero 200 solo numero 150 adesso numero 70 del mondo e te lo chiedi perché gioca bene apparentemente meglio di molti altri che lo precedono in classifica ma alla fine di partite non ne vince tantissime e spesso il motivo è da ricercare fra le sue orecchie dato che notoriamente non è un freddo sotto pressione. Esattamente il contrario di Cobolli che gioca bene ma non necessariamente così tanto meglio di altri dietro di lui in classifica e però una grandissima forza agonistica che spesso lo porta a rendere molto bene appunto sotto pressione. Con questa combinazione di caratteri opposti ecco che il finale del secondo set ha visto nel giro di qualche minuto in uno stravolgimento con Berks a tremare servendo sul 6-5 e poi a sprecare parecchio durante il tie break e Cobolli invece ad approfittarne in modo quasi predatorio diciamo. Un cambio di plot dell'incontro che sembrava poter essere un colpo pesantissimo da assorbire per Berks ed invece ancora una volta direi per la miliardesima volta il tennis dimostra invece la sua indecifrabilità con Cobolli che dopo aver avuto due palle break in apertura di terzo e dopo un game lungo e duro sul proprio servizio alla fine perso è calato di improvviso di qualità e di intensità venendo nuovamente travolto da un Berks in totale controllo fino alla fine come del resto poi accaduto in gran parte della partita. Per Cobolli un debutto complesso quindi in cui ha pagato soprattutto una giornata pessima al servizio è lo scotto di una competizione che porta tutti i tennisti in uno stato mentale molto diverso dal loro ordinario in cui la motivazione non manca mai, in cui la responsabilità è però molto differente, in cui la carica proveniente dall'esterno maggiore in cui insomma gli equilibri generali possono cambiare. E a proposito tornando alle prestazioni notevoli di giocatori come Fonseca e Blocks appunto in questi giorni questo fattore, questa unicità di atmosfera nella Davis va tenuta in considerazione, sono due giocatori con delle doti speciali, giocano già alla grande e hanno dimostrato di sapersi esprimere sotto pressione, però questa pressione ripeto garantisce appunto carica massima, supporto dall'esterno, senso di responsabilità anche verso l'esterno e paradossalmente questo aiuta questi ragazzi a rimanere centrati, concentrati e anche leggeri non avendo nulla da perdere contro avversari ad esempio forti come Berrettini. Quindi diciamo che le loro indubbie qualità si sono mostrate ma poi il cammino per consolidarle, valorizzarle e di conseguenza emergere definitivamente è ancora in gran parte da fare perché ad esempio nei challenger o nei turni di qualificazione in 2 a 50 è tutto meno esaltante, quindi più difficili e soprattutto si è completamente soli. Detto questo, terminata questa digressione, dopo la partita tra Corbolli e Berks è diventato quindi decisivo il doppio che vedeva in campo la coppia Bolelli-Vavassori contro i belgi Fliegen e Gillet. Ma prima di passare a quanto è accaduto nel doppio vi rubo un secondo per parlarvi di MrTennis.com che da qualche tempo è diventato partner di Slice e quindi sostiene il canale. MrTennis è il sito, il negozio online in cui praticamente sempre e ormai da anni vado nel momento in cui ho bisogno di materiale tennistico, racchette, corde, scarpe, abbigliamento tecnico, accessori. Nel tempo ho sviluppato un grado di fiducia direi assoluta nel loro servizio, nella loro affidabilità e nella cura di quello che può sembrare un processo semplice l'acquistare online ma che in realtà è sempre abbastanza delicato. Fiducia peraltro che evidentemente non nutro solo io, sono infatti migliaia le recensioni praticamente tutte positive presenti su Trustpilot e che testimoniano quanto MrTennis.com sia una scelta sicura quando decidete di comprare qualsiasi cosa legata al mondo del tennis. Dicevo, il doppio quindi decisivo per l'esito del tie ma anche per la possibilità di qualificazione alla finale di Malaga delle due squadre. E tra l'altro è utile sottolineare un attimo il cambio di ruolo che ha subito il doppio con il cambio di formula della Davis avvenuto qualche anno fa. Prima con il tie al meglio delle cinque partite posizionato nella seconda giornata dopo i primi due singolari, il doppio era qualcosa di sempre importante ma non sempre decisivo. Adesso invece con il tie che si giocano al meglio dei tre e messo come ultimo match il doppio può passare dall'essere quasi completamente ininfluente, cosa che non accadeva mai in passato, al diventare di improvviso assolutamente decisivo, cosa che anche in questo caso avveniva molto meno in passato. Insomma un bel cambio di paradigma che questa volta ha premiato l'Italia con Bolelli e Vavassori a vincere in modo molto convincente una partita delicatissima. Fin dall'inizio dell'incontro la coppia italiana è parsa superiore anche se il dominio dei servizi ha portato comunque alla risoluzione del primo set al tie break dove è emerso prepotentemente uno straordinario Bolelli che ha messo in campo una qualità ahimè non valorizzata sempre nella sua carriera di singolarista completamente sconosciuta agli altri tre. Il secondo set si è sviluppato in modo analogo con gli italiani sempre a dare l'impressione di maggiore qualità ma comunque un dominio dei servizi che si è rotto questa volta solo sul 5 pari quando questa volta sia Bolelli che Vavassori hanno tirato fuori dal mazzo un game risposta favoloso che gli ha consegnato break e sostanzialmente la partita. Una vittoria cruciale in ottica qualificazione è una qualificazione che seppur non ottenuta matematicamente adesso per l'Italia è davvero vicina. Un'Italia infatti che non si qualificherà solo in caso di sconfitta con l'Olanda e una contemporanea vittoria per 3 a 0 del Belgio sul Brasile. È tutto per oggi vi ricordo di mettere mi piace al video se vi è effettivamente piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e molti di voi non l'hanno ancora fatto e soprattutto di dare un occhio a MrTennis.com che ringrazio nuovamente per il prezioso sostegno al progetto.